Se volete acquistare crediti andate su gold.com e con il codice dread avrete il 5% di sconto Frega cazzi dell'intro Juventino Aviamo subito di fare qualcosa di decente contro questo regà Grande vai No ma Vidal ma no grande Uccidi Bello cosa impressione subito il fritter E dai frate Vai Flavie mannala No ho sbagliato Oh è buona Volevo schippare Dai quitta 8-0-8 esprimi in desiderio No Eppure io sono deficiente però Emi 12-12 Emi lo zio regà Valbuena Quanto corre Questo non sa fare passaggi Oh Ma si che è successo vai Robin corri Robin corri Robin corri Robin corri grazie che mi ha lasciato lo spazio frate Merda Ma chi è? Questo appena gliene faccio uno vi giuro gliene faccio un altri 7 Il problema è che fagliene uno perché è tutto scriptato Vai così No ma vedete che sbagliano tutti i passaggi C'è della noia in questa partita Vai allarga Dai su Grande apertura per Robin Per Ribery Perché sbaglio ogni volta Guardate i rimpalli che ci stanno in questa partita incredibile Vai Ribery per Robin Corri Robin Lewandowski per mezzo ti prego Lewandowski per mezzo Lewandowski ti ho visto fuori gioco Però c'è Ribery di là C'è Ribery di là Merda Ma come è scivolato male No vabbè ma che ha fatto raga ma avete visto Ma l'ha completamente lisciato Ma che giallo è Ma che era Cioè raga Penso che non ci sia stato nessun tiro in porta Lewandowski preciso Bella Fai Oddio sono da solo Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero raga Cioè non può non prendere la porta da lì Veramente nemmeno Dzeko Cararmato Johnny Gol Skip del 45esimo ci doveva stare raga Non fa le skill Grande Che brutto match Ma che roba Oh mio dio che No vabbè raga Non possono dire a ste ciabattate Però Se non deve entrare non deve entrare però Goal Levantowski Decisivo sempre lui di testa Decisivo sempre lui Sui calci pensieri siamo mostruosi raga Siamo veramente mostruosi Guarda dove l'ha messa raga Dove l'ha messa E allora si una a uno Vai così perfetto Vai così Robben Mamma mia cazzione Robbeno Va Va Sì Riplichiamo il calcio d'angolo di prima signore Lo replichiamo Robben Oh mio dio Filippo Lamiera Madonna raga Stava già su 3-7 quella Party Vidal Party Vidal Party Rock tonight It's party rock Time to party rock Di là Di là Ma è buona Mio dio queste aperture le amo Levantowski Mio dio preciso Oh mio dio Che ha sbagliato raga Non è possibile E' nel cucchiaio al volo al 78esimo raga La cucchiarella Gli aveva fatto Ar volo Ar fly Non si possono sbagliare questi match point Vidal che recupera incredibile Allora Filippo Non è vero Vai così Oddio Sei andato Da solo No si vabbè Vabbè raga E' Superman E' Superman E' Man of Steel raga Ma che ha preso Ma hai visto come la per terra Finisce qui 1-1 raga Con quell'occasione All'ultimo secondo Cioè doppia occasione Incredibile Il cucchiaio sbagliato Poi portiere che si improvvisa Superman Evidenti problematiche Con questo pareggio inaspettato Il frittella Si porta a 10 punti Seconda partita sarà Contro una squadra italiana Più o meno I foggia Signori Scontro al vertice Incredibile Questa la dobbiamo vincere per forza La dobbiamo vincere nei prossimi due Così in questo episodio Siamo sicuri di essere passati in divisione 4 Ma che si è inserito Ancora Lewandowski E vabbè raga Questa è come prima Non riusciamo ad arrivare in porta Confusionaria Questo è il passaggio al volo migliore della storia Lo stop migliore della storia Il dribbling migliore della storia Farà il tiro migliore della storia E la parata peggiore L'ho detto eh raga L'ho detto eh L'ho detto eh Uh ucciso Ma ripartiamo con Mario Vagga così a caso Come on Mario Dai Mario No No è entrato Oh mio dio Killer Davidino alla bapò ripartire Come on Davidino Come on Davidino Ancora Dai così No La ciccata Non ci credo Dai così Merda Emo Merda Liberatene Vital Incredibile Il cuore Il cuore di Vital Comunque come tiene palla Filippo Lamiera Signori Non la tiene nessuna E poi Vital Granfinta La mette lì All'angolino Dove il portiere Non può arrivare del foccia 1 a 0 per noi In questo momento siamo a meno 3 Dalla promozione No raga Eh fuori gioco Fuori gioco Fiscalo Non è fuori gioco Non ci credo 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 E così Robert Robert No Ma c'è Levandoschi in mezzo E' buona per leva Anticipalo Tira Mario No vabbè No era Filippo No era Mario Perché lì confondo sempre Confondo sempre Filippo con Mario Dai prima tutti i vittori E mo tutti i pareggi Stavo a fare Con l'avversario comunque Molto più scarsi Dai stavo in porta Dai un tiro Un tiro Fate un tiro Cioè L'ho passato Diametricalmente Dall'altra parte Non so se siete una parola Ma era dall'altra parte 20 minuti al termine Ancora 1 a 1 No vabbè No avete visto che è successo L'avete visto L'avete visto L'avete visto L'avete visto Voi l'avete visto Su questo calcio d'angolo segna L'ho detto Dove raga No incredibile Dai Raga ha sbagliato Raga ha sbagliato Odio Pischek Pischek No l'ha deviata Ma perché dei tanti Scriccioni piedi buoni Pischek Non potrebbe capitare Robben Tira tesa Che sta svolgendo Al termine No No I buchi così No Merda Porca E vaga ha preso Via riparti Via riparti il novantesimo No ha finito con 1 a 1 Anche questa Pareggio Ah no non è fin Merda No 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 Fischia Ti prego Fischiala Fammela finire 1 a 1 adesso No raga Fuori 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 Ah si fischia 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 No eh Finisce 1 a 1 Anche questa seconda partita Del match Del match Del gioco Dopo quest'altro 1 a 1 Il fritella Si trova a 11 punti E l'ultima partita Sarà contro Una squadra incredibile Ok signori Ultima partita Contro la Romania È stato un piacere Questa dobbiamo vincere Non possiamo fare tre pareggi Cioè Se devo proprio buttare all'aria L'intero campionato Via sei inserito Come on Lewandowski Ma rega Mannaggia Vi giuro che se non riesco a passare la divisione Manco stavolta mi succedo Come on Bello Gran stop di Robben Signori Stop a inseguire col fucile in faccia Come on Robben incredibile Grande azione del fritella Non può fare una cosa del genere Il portiere Rosso Ma come va a dargli il giallo Cioè Ma Ma ucciso Fammi tirare un porta Rega Io tirare un porta Robben Oh mio dio Le va Regolarissimo Lewandowski Gran cucchiaio di Lewandowski Questo c'è il vizietto De faccio il portiere Lui è come Omiant L'Omianto C'è la tecnica del portiere Al centro campo Però funziona Gran gol di Lewandowski Con la cucchiara Grande leva Incredibile 1-0 per noi Allora Andiamo a farne Un altro subito Fammolo pittà Così Non sprechiamo tempo Dai pareto per Robbeno Di là O M C'è veloce C'è Ebbè è morto Per cazzo No mannaggia Remida È una bestemmia Non credo Se offendo a Nubi Non è una bestemmia E no Se entrava Me ne me la andavo Cazzo Fatta la cazzata Vabbè raga Poi può regalargli I gol A regalargli Guarda Che te parli Ma che vuoi Mo te ne faccio sette Ragazzi se finiscono tre partite 1-1 Voglio dei soldi Perché comunque c'è del calcio scommesse dietro Per forza C'è il FIFA scommesse Dai così vi do Dai che gli hai tolta No che ha fischiato Il fallo per lui La fine Che cosa hai fischiato Finisce il primo tempo 1-1 di nuovo Via al centro Vai Robben Vai Leva E Con la maglietta mia Ah sì Ma dov'è fischiare il fallo Ma ha tenuto la maglietta a 12 volte E madonna Madonna Ma che vuoi Ragazzi mettiamo in mezzo questo pallone Andiamola a vincere Con un gran colpo di testa Di Lewandowski Che la mette per fronte Oh mio dio Ragazzi vi giuro che se finisci un'altra 1-1 Voglio 80.000 like Ora farò di tutto per farla finire 1-1 Robben No ma che era Cioè si stava in porta Vai 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 Robben Robben No vabbè regà Ma che ha preso Ma perché fanno tutte separate all'ultimo Ma com'è possibile Ma com'è possibile Bella Robben Ti prego Oh Rigore 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 Brutto Ma brutto eh Ebbè gli dita al giallo di che spuelle Però perché è già munito Netto regà Non l'ha munito Non l'ha neanche munito Signore Ti prego Non sbagliarlo No oddio ha laggato Oh ma l'ha passato lui No Ha fischiato Fallo per lui Ma va a cagare Finita Così Ma va a cagare vai Ma va a cagare Cioè 3 partite 1-1 3 partite 1-1 Beh regà nel prossimo episodio Cercheremo di fare 4 punti in 4 partite Ci riusciremo Spero Comunque noi sentiamo la prossima Che sarà domani Alle 2.30 con un nuovo video Spero che questo episodio vi sia piaciuto Anche se un po' caccarone Un po' così Sentiamo la prossima Bella Ricordate che in descrizione C'è G2A per giochi E abbonamenti Scontatissimi C'è G2A per giochi 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 C'è G2A per giochi